Angelo Adduci, un rinnovato impegno in politica, questa volta quali sono gli aspetti ispirati alla sua azione? La riviera dei Cedri, in tutta la sua complessità, può rappresentare un laboratorio di sviluppo per tutta la Calabria. In essa ci sono tutte quelle vocazioni, tutte quelle risorse ambientali, naturalistiche, paesaggistiche, culturali, culturali, che opportunamente valorizzate e inserite in un processo virtuoso, possono rappresentare chiaramente l'occasione per uno sviluppo possibile di tutto il comprensorio. Non a caso, in questa campagna elettorale, sto parlando di un sistema d'aria, del sistema d'aria della riviera dei Cedri. Dicevo un laboratorio sperimentale di sviluppo, che potrà anche essere preso d'esempio ad altre realtà della Calabria, affinché chiaramente si possa arrivare ad un processo virtuoso, naturalmente per la nostra zona, ma anche per tutta quanta la Calabria. E nello specifico? Nello specifico sto puntando su alcuni aspetti strategici. Ad esempio la banca della riviera dei Cedri. La banca, una grande banca della riviera dei Cedri. Uno dei problemi del mancato sviluppo della Calabria sta proprio nelle questioni legate al credito, all'accesso al credito. Tutti quanti sappiamo che il denaro nel meridione e in Calabria costa quasi il doppio rispetto a quello che gli imprenditori pagano nel centro nord. Ed un altro aspetto importante è quello che materialmente i soldi che le banche rastrellano nel meridione e in Calabria, poi chiaramente vengono investite in altre aree del centro nord e all'estero. Naturalmente si capisce che questo provoca uno stato di imboverimento e di miseria. Un altro aspetto importante è la scuola internazionale del turismo. Chiaramente la Calabria è terra di turismo, un turismo legato all'agricoltura, un turismo legato all'ambiente. Si induisce chiaramente che la formazione professionale, quindi che la scuola internazionale del turismo prepara giovani capaci, li prepara sulla nostra terra. Chiaramente con questa crescita si riesce a migliorare l'offerta turistica che deve essere estremamente qualificata, per cui un aspetto importante del mio programma è anche quello della scuola internazionale del turismo. Poi un altro aspetto importante che è estremamente legato a quelle che sono le nostre risorse. Parlo del cedro, ma tranquillamente posso parlare del vino d'oc verbicaro. Se noi riusciamo a fare come già io naturalmente sto già facendo, come presidente del consorzio del cedro di Calabria, perché abbiamo fatto la via del cedro, ma deve essere ancora migliorata, deve essere implementata, deve essere legato al vino, deve essere legato a tutti i servizi, deve essere legato al parco nazionale del Pollino. Il parco nazionale del Pollino è un'altra nostra grande risorsa inespressa. Bisogna parlare del parco con il linguaggio del sì. Naturalmente un sì che deve essere rispettoso delle vocazioni territoriali. Il parco che deve essere vissuto dai condadini, che deve essere vissuto dagli operatori turistici, che deve essere vissuto dai condadini, utilizzando una grande risorsa, che è la risorsa della forestazione e dei forestali. Sta all'intelligenza della politica, come ha saputo ben fare l'assessore all'agricoltura e della forestazione della regione Calabria, Mario Pirillo, per quanto riguarda il discorso della forestazione e dei forestali. I forestali e la forestazione rappresentano una grande opportunità, spetta alla politica, ai diversi livelli istituzionali, consorsi di bonifica, amministrazioni comunali, provincia e regione, progettare e programmare a pieno questa risorsa, affinché anche questa possa rappresentare un valore e un volano della nostra terra. Come interpreta il ruolo di consigliere provinciale? Io ritengo che il ruolo del consigliere provinciale non è stato ancora utilizzato appieno nella nostra zona, perché il consigliere provinciale deve rispondere e deve occuparsi non solamente dei patti del consiglio provinciale. Il suo ruolo è proprio quello di mettere insieme, mettere insieme le associazioni, mettere insieme le amministrazioni, avere un'idea sul territorio e quindi in modo tale che creare sinergie tra i diversi livelli istituzionali, tra i livelli istituzionali e le associazioni. Io parlavo prima del sistema d'aria, il sistema d'aria è possibile solo se tutti quanti insieme, territorio e popolazioni, sanno avere un progetto comune per arrivare chiaramente a uno sviluppo che può essere solamente affrontato se è affrontato in sinergia. Grazie. Grazie. Grazie.